Da diffuso, dall'allenatore, l'accetto, pensa a lavorare e basta. La tua manacca è tutta. Non lo so se è giusto, ragazzi. Non mi sembra che... Altra cosa, scusate. Non mi lo so. No. D'altra cosa che volevo chiedere, è se viene davvero che questa vittoria soffretta che ci sarà oggi possa aiutare la squadra a sbloccarci? Cioè, vedi davvero... No, no, non è che basta una vittoria e ti sblocchi. Io dico, quando sono arrivato, poi ho trovato una squadra molto nervosa, molto con i nervi a fior di pelle, e poi dopo si era tranquillizzata, avevamo fatto delle buone cose. Adesso stavamo attraversando un periodo difficile di risultati, ma nello spogliatoio c'era molta consapevolezza, molta serenità, molta determinazione nel venirne fuori. E' logico che sarebbe bello vivere quello che ha vissuto il Milan. Il primo tempo con noi erano distrutti, ci hanno battuto, sono andati a Madrid, sembra che è passata l'angelo con la bacchetta magica e gli ha cambiato tutto. Me lo auguro, però io come uomo, come allenatore, non vado a vivere di questo. Vado a vivere, invece che giovedì sera c'è una partita difficile che è il Fulham, una squadra che è andata a pareggiare a Manchester City, è una squadra che ha fatto tre gol a Liverpool, ecco, è una squadretta insomma. E allora dobbiamo pensare invece che noi vogliamo andare avanti di chi noi fa. Poi dopo c'è l'Inter, cioè ci sono belle partite da giocare, toste, e saremo pronti. Certo che se riuscissimo a fare filotto sarebbe cambiato veramente il tutto, però non posso illudere, non posso, dobbiamo andare tranquilli con la stessa determinazione che ci ha permesso di venirne fuori, tutto qua. Sperando appunto di recuperare al più presto tutti quegli infortunati che sono importanti, io non lo menziono mai, insomma il capitano è il capitano, è il nostro goliato al principe, per cui prima ce l'abbiamo dentro e prima tutte quelle palle che passano là davanti o lì nei dintorni dovrebbero essere gol. Non deve essere un'altra cosa che è importante, se c'è nel caso, il risultato di Pizarro è stato nell'ultimo golo e comunque ha dato dimostrazioni come la prova canzale, completamente, per esempio. No, c'è la forza, io me lo metto dentro bambambacia, me lo bacio tutto, me lo coccolo. Pensate che l'ho messo dentro proprio perché è bizzarre, perché in dieci giorni io non l'ho mai visto alle nazi. ieri ha fatto un qualcosina, gli avevo detto non andare a battere neanche i calci d'angolo, dico che sto mai, mentre batte il calcio d'angolo gli fa male la schiena. Per cui lo so che la guardano grande, anch'io capisco un po' di calcio, ne mastico. Qualcosina. Giuseppe, però lei è molto meglio di noi che la contestazione di Così non è la sua equazione molto semplice, da Roma Verde e quindi i tifosi contestano. Lei è molto meglio di noi perché la contestazione è molto più ampia, viene da lontano, viene da una Roma che è in la Sesta e proprio perché c'è l'autofidanziamento con tutto il rispetto dei cubetti, si tende ai cubetti a fare la propria, si vende a Pirani e il difuso ha paura perché anche quest'anno se malaguratamente non si riuscisse a entrare in certi anzoni che magari già il prossimo anno si debba vendere un altro gioco. Quindi la contestazione è un nuovo. Ma allora questa è un'altra cosa. Non è l'equazione proprio a pezzo con l'udinese nuova? No, no, no. Io, io, mi piace rispondere a tutto, io non mi giro dietro a, non mi nascondo dietro a un dito, dico papale papale. C'è sfiducia nella dirigenza, c'è preoccupazione nella dirigenza. È una cosa. La squadra, la domenica, va in campo e la squadra non si contesta, si aiuta. Perché se no, io da fuori, non da allenatore, penso, ma allora c'è qualche altra cosa dietro? Allora c'è qualche altra cosa dietro? Allora vogliono che la squadra vada male. Eh, ma perché se no, è così. Se no, è così. Scusatemi. Resteremo in Serie A. Ragazzi. Ragazzi. Non lo so. Io sono rimasto veramente amareggiato. Non è rimasto veramente amareggiato. Noi non molleremo. Daniele, scusa, posso fare un'ultima domanda? Sono qui per questo. Visto che è stato recuperato, mi sembra abbastanza bene, Menez e che Fugni c'è tornato, perlomeno sotto il profilo fisico e psicologico, il giocatore che serve alla Roma. Il giorno che, speriamo presto, rientra Totti. Questi tre, secondo te, possono giocare insieme? Non lo so, vedremo. Io mi auguro di sì. Fate meglio avere prima tutti quanti, in piena condizione. E no a Tozzi e Bocconi che non li posso avvenare e li metto dentro, perché per avere tutti quelli là la squadra deve stare bella fisicamente, però possono giocare tutti. Io credo di sì che possono giocare con l'aiuto di tutti. Grazie. Grazie.